E rientriamo in onda qui su RBS, siete sempre all'ascolto dell'edizione speciale di Play, speciale per vari motivi, un po' perché il sabato non andrei mai in onda in generale, è un orario diverso, un giorno diverso ma anche un formato diverso, non vi racconto oggi le notizie del giorno, anche se i temi sono attualissimi è quello che affrontiamo nella prossima doppia intervista e forse il più attuale di tutti, la più grande crisi che abbiamo di fronte, quello che abbiamo generato con l'antropocene e quindi appunto lasciamo da parte però le notizie puntuali del giorno e andiamo a raggiungere nuovamente due autori, questa volta ne abbiamo uno in presenza in carne ed ossa, uno invece ci ascolta a distanza, qui vicino a me per ADD Editor abbiamo Danilo Zagaria che ha scritto In alto mare, benvenuto Danilo. Grazie, grazie mille, buongiorno. E invece a distanza, lo vedo appunto, lo intravedo nella webcam, Maurizio Casiraghi che per il mulino ha scritto sempre più soli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora i libri, insomma i temi che trattate in questi vostri testi sono simili ma sono anche molto ampi, è molto facile perderci, in un caso si parla se vogliamo forse in maniera più ampia di antropocene, del nostro impatto sul mondo, nel libro di Danilo Zagaria, in particolare invece in sempre più soli l'argomento è quello della perdita di biodiversità, appunto noi esseri umani siamo sempre più soli perché stiamo facendo estinguere tante altre specie là fuori, insomma potrei stare qui a parlare con voi per dieci ore di seguito e non avremmo comunque concluso tutti gli argomenti. Io vorrei partire da un elemento, quello della visibilità, la visibilità delle varie crisi, la visibilità dell'antropocene, un elemento molto visibile è quello con cui tu ad esempio apri questo libro ed è un po' il filone portante anche un po' di questo libro, ovvero questo naufragio di paperelle, di plastica che fecero notare il nostro impatto sul mondo per certi versi, distribuirono plastica verso l'oceano. Insomma ci racconti un po' di quanto può essere importante vedere queste cose con i nostri occhi? Certo, la storia con cui inizio il libro, quella delle paperelle che vennero perdute da questa nave portacontainer nell'oceano Pacifico nel 1992 è una storia abbastanza famosa, una storia che è stata raccontata in tanti modi, in modi scientifici, ma io ho deciso di raccontarla come una straordinaria storia di inquinamento ambientale, partendo quindi da qui ed è una storia che ha ottenuto tanta visibilità nel corso degli anni, nel senso che è una storia piuttosto nota e anche oggi credo che sia noto il problema della plastica, delle microplastiche negli ecosistemi marini e dell'impatto che hanno. Il fatto è che però molto spesso queste cose non le vediamo, non vediamo la plastica nei mari e questo credo che sia causato dal fatto che la nostra prospettiva sugli ecosistemi marini è una prospettiva costiera. Noi viviamo il mare dalla costa, a volte lo attraversiamo viaggiando, ma non lo viviamo mai dall'interno, quindi è difficile vedere che cosa accade all'interno degli ecosistemi marini. Quindi ho scritto questo libro anche per questo, per provare a portare il lettore in mare e nell'oceano e provare a mostrargli che cosa sta succedendo. E credo che sia molto importante riuscire a dare visibilità a questi temi. In fondo anche il concetto stesso di antropocene, l'epoca dell'uomo, ha forse proprio questo significato e cioè definire un periodo con un nome specifico che dà anche in un certo senso una responsabilità e in un certo senso un modo per tirare fuori questo tema, per farlo vedere e per sottolinearlo. E io credo che questo sia importante, dare i nomi ai periodi, dare i nomi alle cose, li porta fuori dall'invisibilità proprio. Un po' come quando si dà un nome a qualcosa, a un animale, lo porta fuori dall'anonimato. Questo credo che sia molto importante anche per il periodo in cui viviamo. Dargli un nome aiuta a definirlo. Una storia simile la si può fare appunto per la perdita di biodiversità, forse ancora più lampante in quel caso, perché ci troviamo di fronte all'assenza di specie, all'assenza di animali e di specie anche insomma vegetali. Quindi il problema è lì di puntare i riflettori su qualcosa che non c'è, perché il problema è proprio che non c'è più e non lo vediamo. E questa grande difficoltà immagino di mettere, che abbiamo di fronte se vogliamo mettere in primo piano questo tema. Sì, lo è indubbiamente. Noi partiamo un po' da questo fatto che per chi come me studia la biodiversità, le dinamiche di variazione della biodiversità di solito le misuriamo nelle generazioni, in tempi molto lunghi. Siamo abituati a vedere questi cambiamenti in tempi molto lunghi. Quello che sta succedendo è che una parte della biodiversità, perché capire quanto sia la biodiversità influenzata da questa azione dell'uomo è complicato, perché abbiamo un milione e mezzo di specie animali, due milioni di specie complessive, non è che stiamo agendo nello stesso modo su tutte. E quindi è più la biodiversità che abbiamo proprio a portata di mano, quella che fa parte del nostro mondo, quella che abbiamo messo più in difficoltà. E con questa cosa che stiamo vedendo nell'arco di anni questi cambiamenti, li stiamo vedendo nella vita di una persona, che è una cosa che normalmente per la biodiversità non abbiamo fatto, perché con questa velocità l'influenza è qualcosa di molto grosso. Poi sapete, è difficile per noi andare a capire veramente quando una specie è estinta, perché adesso vi faccio degli esempi così, però ci sono delle società in Australia che stanno sovvenzionando la ricerca del tilacino, che è questo marsupiale che si è estinto l'ultimo esemplare negli zoo all'inizio del Novecento. E da allora noi non abbiamo più tracce, però dicono che in certe regioni della Tasmania potrebbero averle viste, ma il tilacino è la cosiddetta lupo-tigre marsupiale, però insomma è grande come un cane, non abbiamo un animaletto piccolo, e quindi c'è persino la possibilità che animali così forse abbiano ancora qualche esemplare, o noi abbiamo, perché anche questo è un caso famoso in Italia, in centro Italia c'è una piccola mantide che non si trova da tantissimo tempo, è stata dichiarata estinta, è stata dichiarata estinta dagli organi, e recentemente qualcuno ha detto ma forse l'ho trovata. Ecco il punto è questo, che proprio arrivare alla certezza che un organismo è estinto è abbastanza difficile. Quello che invece riusciamo a vedere è la crisi della biodiversità, perché che ci sia una forte riduzione, che ci sia una forte difficoltà, questo è molto evidente. Quindi, se io dico questo per dire il titolo sempre più soli, è un po' questo, non è un connotato negativo, è una constatazione, che ci stiamo sempre più riducendo, perché le popolazioni sono sempre più in crisi e diventano sempre meno. Poi arrivare proprio all'estinzione bisognerà capirlo, perché come dicevo è più complicato. Quella che dobbiamo evitare chiaramente in tutto questo è anche la nostra di estinzione, e qui secondo me entriamo su un argomento delicato, per chi come voi scrive libri come questo e cerca di fare divulgazione, perché in entrambi questi testi vedo che mettete molto di vostro, la vostra esperienza personale, la vostra passione personale rispetto a questi temi, ed evidentemente un metodo molto efficace, far sentire questa questione non come un tema freddo, distante, che non ci riguarda, ma qualcosa che ha a che fare proprio con voi, individualmente. però poi è un filo sottile sul quale camminare, perché se ci si spinge troppo avanti, poi magari un lettore, magari di quelli già più scettici, può dire, vabbè ma amica, cosa ci interessa di un problema tuo? Insomma il problema forse è renderlo troppo individuale, renderlo troppo personale, quindi non so se voi percepiate, lo chiedo prima a Danilo, questa difficoltà di muoversi in uno spazio non così ampio nell'ambito della divulgazione. Ma indubbiamente, io sento che questo è un problema, diciamo, della divulgazione, ed è un problema da affrontare provando a scrivere libri, per esempio, che lo superino, o comunque che propongano soluzioni alternative. Io credo che la divulgazione debba riuscire, appunto, a raccontare la scienza che, per come funziona, la scienza è una materia anarrativa, non è narrativa in sostanza, ma non perché ha un problema, perché funziona così, funziona secondo altri metodi. Quindi riuscire a raccontare delle storie scientifiche è molto complicato. Una delle strategie che, per esempio, ho utilizzato in questo libro è appunto mettermi, come dire, in primo piano, mettermi all'interno della storia e partire da degli spunti personali. No, nel mio caso sono molto spesso delle letture oppure delle interviste che io ho realizzato con scienziati di livello internazionale che studiano questi argomenti da tanti anni. Credo che quello possa essere, come dire, il primo spunto, ecco, da cui partire. E credo anche che sia importante raccontare le storie degli scienziati, che forse, appunto, non è raccontare la scienza in sé, ma raccontare che cos'è, come dire, il rapporto fra scienza e umanità. Credo che questo sia molto importante, perché molto spesso gli scienziati vengono in qualche modo disumanizzati, no? Si parla del loro lavoro, ma non si parla del fatto che alla fin fine sono esseri umani. Questo non dovrebbe, ovviamente, come dire, influire sul loro lavoro, ma sappiamo bene tutti che, comunque, alla fine non è così e influisce per forza di cose. Quindi credo che sia molto utile partire anche dalle loro storie. Sì, perché c'è un tema enorme che è quello del scetticismo, forse c'è ancora il negazionismo rispetto al cambiamento climatico, rispetto all'antropocene, e poi c'è un tema parallelo che è quello che minimizza la gravità. Sì, tutto questo sta succedendo, ma forse non è così grave. E poi c'è anche l'altro macro tema, ovvero magari della scarsa fiducia nella scienza, che abbiamo visto anche, ad esempio, col Covid, che è qualcosa di vicino, in realtà, alla perdita di biodiversità, perché le cause possono essere simili. Ma, insomma, voglio girare anche a Maurizio Casiraghi questa domanda che ho fatto. Ecco, come si riesce a stare in equilibrio tra il far capire che la perdita di biodiversità è qualcosa che ci riguarda, ma non farne soltanto una questione umana, nel senso, si tratterebbe di qualcosa di grave anche se non ci toccasse. Ecco, anche qui immagino ci voglia un po' di equilibrismo. Sì, Alessio, hai ragione. Sono molto d'accordo con quello che diceva Danilo. Io faccio parte di questo mondo della ricerca. Prima di tutto sono un ricercatore, io faccio questo lavoro. Devo dire che hai citato il Covid e purtroppo, quello che è successo anche con la comunicazione, tutto quanto, la scienza, gli scienziati che non erano d'accordo, fa parte molto di questo modo con cui funziona la scienza, che fatto tra di noi scienziati è quello che ci porta a crescere, quello che ci porta chiaramente a migliorare le nostre ricerche, i nostri risultati, perché niente assoluto, cioè le evidenze devono essere portate sui fatti e quindi siccome i fatti possono essere complessi è difficile fare questo lavoro, nel senso che, e secondo me è proprio stato emblematico quello che è successo durante il Covid, perché sono successe delle discussioni che dovevano rimanere in ambito scientifico perché noi le gestiremmo e sono finite invece sulla grande comunicazione dove un mondo non preparato ovviamente aveva dei personaggi, dei docenti universitari, dei ricercatori che parlavano un'altra lingua. Io quello che ho fatto in questo libro è stato che innanzitutto per me è sempre importante capire a chi ti stai rivolgendo, cioè non ho scritto un libro per i miei colleghi, cioè per i miei colleghi non ho bisogno di scrivere un libro di questo genere, è un libro che doveva andare da un'altra parte e quindi io ho voluto fare questa cosa dicendo prima di tutto che sono un essere umano, non è che sono qua a raccontare una storia che ha una verità, cioè io sono dentro in questa cosa, come dico a un certo punto, ma io sono un motociclista, mi piace andare in giro con la moto, ma io lo so che ha un impatto e quindi penso questa cosa e mi devo fare una domanda perché se posso usare una volta di meno anche se mi piace tanto ha un senso. Quindi ecco, io dico questo, siamo tutti coinvolti su questo aspetto, non è che c'è quello della scienza che ti dice cosa bisogna fare e poi aspettiamo che ci sono i governi che prendono le decisioni, che il messaggio un po' del libro è questo, che non ci si salva perché qualcuno diciamo così fa qualcosa, ci si salva perché tutti quanti prendiamo carico del nostro pezzo, per alcuni può essere più piccolo perché se siamo un semplice cittadino è un po' più piccolo e poi man mano possono esserci impatti di diverso livello. Quindi ecco, il tentativo di mettere dentro me era da un lato perché è la passione della mia vita, questo, la studio della biodiversità, lo faccio da quando ho sette anni di guardare gli insetti, quindi è chiaro che c'è un pezzo che è molta passione, però dall'altra è anche quella di dimostrare che non sto facendo una pontificazione dall'alto di una cattedra universitaria che non mi interessa nulla, cioè era solo il fatto che bisogna rendersi conto che siamo arrivati qui. Do questo ultimo dato che secondo me deve essere sempre chiaro a tutti. Quando la storia dell'uomo è partita circa 10.000 anni fa quando abbiamo cominciato l'agricoltura, sulla terra c'erano un milione di esseri umani, 10.000 anni fa. La popolazione poi ha cominciato a crescere come succede nelle cose esponenziali, la crescita all'inizio non la vedi molto perché siamo arrivati a un miliardo nell'ottocento, ma negli ultimi duecento anni noi da uno siamo stati otto miliardi. Allora, il punto principale della considerazione è questa, noi non possiamo comportarci come quando eravamo in una vita in cui c'erano un milione di persone, ora siamo otto miliardi, dobbiamo fare delle scelte diverse e dobbiamo farle tutte insieme. Insomma, come ci muoviamo purtroppo andiamo a intaccare aree intere, insomma, mi vengono in mente molte interviste che ho fatto di recente, ho parlato di consumo di suolo rispetto alle alluvioni, ma anche qui il consumo di suolo, andare a intaccare aree nuterali, insomma, è tutto un circolo vizioso che si tiene stretto. Abbiamo ragionato di tanti temi, arriviamo quasi verso la conclusione di questa intervista, faccio una domanda insomma un po' così a bruciapelo, non ve l'ho anticipata, ma in parte me l'avete già raccontato, quale può essere una storia particolarmente lampante, un episodio particolarmente significativo che magari a chi ancora non si sente così coinvolto all'interno di questa questione insomma può far magari scattare qualcosa, come sempre da Danilo magari può essere proprio la storia di queste paperelle magari ti viene in mente altro? Sì, mi viene in mente altro, vorrei citare gli squali che sono appunto degli animali a cui io tengo molto e nel libro ne ho raccontato parecchio insomma di questo argomento e vorrei partire da un punto all'inizio degli anni 70 uno dei più grandi oceanografi viventi del tempo Jacques Costeau molto noto scriveva in un libro divulgativo sugli squali che gli squali alla fine sono talmente tanti nei mari del mondo queste popolazioni immense e quindi non avrebbero mai sofferto in qualche modo la nostra predazione una caccia attiva e quindi in qualche modo insomma non ci dovevamo più di tanto preoccupare del fatto che magari ne pescassimo per il consumo oppure perché finissero nelle reti dei pescatori in modo accidentale ecco erano gli anni 70 era come dire l'inizio della presa di coscienza del pensiero ecologista però ancora grandi figure di questo di spicco comunque della scienza internazionale dicevano questo e invece abbiamo visto come nell'arco alla fine di insomma quasi 50 anni questo si sia ribaltato questa concezione e cioè oggi alla fine noi sappiamo che le circa 400 specie di squali molte di queste sono per esempio a rischio stanno andando in declino le loro popolazioni sono in declino e questo è dovuto principalmente alla nostra attività ora forse appunto gli squali sono specie a noi molto lontane un po' come dicevo all'inizio dalle nostre coste li vediamo poco li viviamo poco in qualche modo abbiamo un rapporto a distanza in qualche modo però io penso che sia interessante e questo può darci da pensare anche su come agiamo nella nostra vita quotidiana che in qualche modo per esempio il nostro consumo elevato di pesce ha un impatto magari anche su delle popolazioni di squali che vivono in oceani molto molto distanti dal mar Mediterraneo esatto anche se non li mangiamo noi direttamente l'impatto l'impatto c'è non so se Maurizio hai una storia pronta ti abbiamo un po' rubato il tema della biodiversità ma insomma ce n'è tante figuratevi se rubare va benissimo di fatto benissimo ovviamente ce ne sono tante e ne cito molte però parto da questo che in un libro di Luigi Luca Cavalli Sforza che ha studiato un genetista che ha studiato la nostra specie l'evoluzione delle nostre popolazioni lui ci definisce la specie prepotente per me è una definizione purtroppo molto calzante perché è proprio dei prepotenti quel misto di ignoranza e menefreghismo che ha contraddistinto un po' la nostra storia allora l'esempio che vi faccio proprio è clamoroso siamo in Australia con i primi coloni che arrivano a un certo punto c'è questo colono inglese che sente la mancanza di casa e si fa mandare una quarantina poi ne arrivano venti coppie di conigli perché dice che le vuole liberare nella sua tenuta perché in questo modo gli caccia un po' e sentire la caccia al coniglio lo fa sentire a casa nostalgia canaglia perché quello che succede è che questi conigli liberati sostanzialmente nel giro di pochi decenni diventano le stime sono varie tra i 600 e gli 800 milioni di conigli in Australia devastano l'Australia creano degli interventi massicci che cercano di controllare ma non ce la fanno pagano la gente per riuscire a fare la caccia a un certo punto vedono che in Sud America c'è un virus che colpisce i conigli altra specie ma colpisce i conigli sudamericani decidono di diffondere questo virus in Australia l'effetto è devastante muoiono 500 milioni di conigli nel momento in cui danno la cosa quindi anche l'impatto pensate avere 500 milioni di carcassi di conigli è vero che l'Australia è grande ma conigli morti ovunque un impatto tremendo tutto quanto alla fine uno in Europa decide che nella sua tenuta fuori Parigi che è un po' uno anche un signorotto fuori Parigi ha una tenuta un piccolo castelletto una tenuta e dice c'è un sacco di conigli metto anch'io il virus nel giro di pochi anni devastata tutta la l'allevamento dei conigli europei perché muoiono tutti ancora oggi il virus della mixomatosi come si chiama è un problema perché è in giro per il mondo e chi alleva conigli deve trovare una serie di cose insomma ecco questo è un altro esempio di come noi ci comportiamo con la biodiversità tutto quanto è normale per noi possiamo intervenire come vogliamo tanto che se ne frega cioè sono tanti animali tante cose possiamo fare proprio da prepotenti stiamo operando e il punto è questo che come vediamo un po' in tutto perché lo vediamo col clima come lo vediamo con gli alluvioni lo vediamo con la siccità lo vediamo con la biodiversità qualcuno sta arrivando a chiedere conto adesso la natura non è che è un'entità superiore non è che voglio metterla così perché non è che è questo è semplicemente che il fatto contingente di tutte queste cose assieme stanno arrivando a chiedere conto e quindi è un po' questo guardando queste cose dovremmo capire che non possiamo più permetterci di fare queste cose non è più il momento in cui possiamo essere così esatto una prepotenza se vogliamo su due fronti una prepotenza sul facciamo noi facciamo quello che vogliamo andiamo ad impattare ma anche un'arroganza sul tanto poi in qualche modo la risolviamo tanto poi siamo capaci a risolverla invece evidentemente non è così arriviamo alla fine di questo bellissimo dialogo di questa intervista doppia davvero anche qui avrei tante domande da porvi ma il tempo sia televisivo che radiofonico stringe allora io ringrazio moltissimo Danilo Zagaria con il suo in alto mare lo trovate allo stand eccolo allo stand di ADD Editore e poi invece allo stand di Il Mulino Maurizio Casiraghi sempre più soli questo libro ecco lo potete vedere anche in video in ogni caso grazie mille ad entrambi grazie davvero grazie grazie a te Alessio ciao Maurizio grazie a te Alessio grazie a te Alessio grazie a te Alessio